Musica Si disputa domani l'ultima giornata nella seconda fase del campionato di Serie A1 femminile. Un turno, il quinto complessivo che risulterà decisivo per assegnare la prima posizione. Ma in scena infatti la sfida tra Iomi, Salerno e Sassari appaiate a 30 punti in cima alla classifica. Si gioca alla Palapalumbo dove le due formazioni si sono già affrontate in finale di Coppa Italia a gennaio con Vittoria delle Campane e dove è stato disputato l'ultimo incontro di campionato della prima fase terminato 34 a 27 in favore sempre della squadra allenata da Giovanni Nesta. All'andata invece i tre punti erano stati conquistati dalla compagine di Carlo Barocchio con il finale di 32 e 29. Domani la partita si disputa con la scena delle 18.30, la di Lugia con i signori Cosenza e Schiavone. Già definita la posizione in classifica di Lombardi Ecologia conversando la linea estrina protagonista della seconda sfida di giornata. Ugliesi e Berete sono infatti rispettivamente terzo e quarto in classifica. La gara si gioca alle 16.30 l'anno di treno. La coppia Marcelli-Marcelli.